Tutti conoscono i giocatori di calcio, alti, belli, forti, con un bel fisico scolpito che spesso ci si chiede perché non siano andati a fare i modelli anziché correre dietro a un pallone. Quando però entri in campo e davanti alla porta, invece di trovare un omone alto 2 metri, trovi lui, piccolo, magro, con uno sguardo da scoiattolo sperduto che e vorresti correre gli incontro e salvarlo dal predatore, rimani sgomento. Il portierino guarda la palla col terrore di chi vede arrivargli contro una pallottola mortale. Quel pallone che tanto amava da bambino adesso è il suo peggior nemico. Avrebbe voluto fare l'attaccante lui, il portierino, ma non era buono, gli dicevano tutti, non sei abbastanza veloce, ma poi siccome nella sua squadra mancava il portiere, aveva dovuto ripiegare per quel ruolo. La paura che prova a ogni partita l'estremo difensore ricorda vagamente il terrore dell'alunno impreparato a un'interrogazione a sorpresa. In ogni istante della lunga, interminabile partita si chiede come farà a non uscirne umiliato. Sarà meglio buttarmi a destra o rimanere in piedi nel caso in cui la palla arrivi centrale? Pensa in ogni momento preso dal panico. «Faccio una figuraccia se rimango fermo. Forse è meglio buttarmi come da un lato o comunque dall'altro». Le domande si sovrappongono nell'angoscia più totale, mentre la partita prosegue tra le urla dei tifosi. Un pensiero gli si presenta all'improvviso, terrificandolo definitivamente. «Se il risultato non si sblocca, ci saranno i rigori». I rigori. Questa parola da sola è in grado di pietrificare il portierino, che all'idea di dover affrontare quell'invalicabile prova sente i brividi in tutto il corpo e trema come colto da un attacco di panico. La partita ormai volge al termine e il giocatore teme il peggio. Al triplice fischio dell'arbitro pensa perfino di scappare dal campo per evitare i rigori. Ma quando un suo compagno gli corre incontro, esultante, capisce che hanno vinto. Il portierino astento trattiene le lacrime di gioia, non per aver vinto, ma per aver evitato la figuraccia del gol subito. La paura di quei 90 minuti lo ha completamente distratto dalla partita. Finalmente può festeggiare con i suoi compagni e gioire fino alla prossima settimana.